Salve sono Lorella Coccarini e per essere sempre aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Diventare mamma è un'esperienza che ha cambiato anche fortemente il mio modo di essere donna, ma anche di essere professionista. Le gravidanze sono arrivate nei momenti in cui mi non me lo aspettavo e ho anche riorganizzato la mia vita professionale sulla base dei figli che sono arrivati. Io a 20 anni ero una ragazza con tanti progetti e tanti sogni da realizzare ed ero al centro della mia vita e questa era la cosa peggiore che potessi fare. Nel momento in cui sono nati i miei figli non sono stata più al centro di niente e in quel momento sono successe le cose più belle della mia vita anche a livello professionale. Questo ha detto mia figlia, non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza. Concludendo io rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi. Non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. Ti invito ad andare nella home page e cliccare su community e votare i sondaggi. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video clic sul filmato scelto. Se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Torna a trovarci, ti va di guardare i sondaggi, 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 ti va di guard